Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video per invitarvi alla cerimonia di Beltane. Il 2 di maggio infatti alle ore 18.30 mi troverete online su Zoom per celebrare Beltane insieme. Questa è veramente una festività incredibile e credo che ognuno di noi meriti di celebrarla insieme a qualcuno che vuole bene o comunque in comunità perché Beltane mi sa davvero di comunità, di gruppo e ovviamente io ormai è quasi un anno e mezzo che continuo a fare queste cerimonie come potrei mai mancarmi il Beltane. E quindi io vi aspetto domenica 2 maggio per celebrarlo insieme alle 18.30. Se fate l'iscrizione qui in basso io poi in un paio di giorni vi manderò effettivamente tutto quanto il materiale di cui avrete bisogno con un pdf con tutto quanto la scaletta della cerimonia così non vi trovate impreparati. Io vi aspetto, non vedo l'ora di celebrare insieme e sarà incredibile, grandioso, meraviglioso e un bacione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!